Amici di calciomercato.com bentornati al consueto appuntamento con la schedina DCM qui e con me come sempre Alessandro Di Gioia Ciao Ale, ciao a tutti, ciao Angelo, tra l'altro il grande weekend per te non hai vinto però 4 su 6, ti riconfermi? Sì, la seconda di fila 4 su 6, tra l'altro perché c'è stato il pareggio della Sampa al novantesimo, se no sarebbero stati 5 Ho sbagliato Inter-Roma, effettivamente, pensavo che l'Inter avrebbe potuto fare meglio Vabbè però c'è stata una partita da tripla diciamo, io non ho indovinato il 2 su 6, la prossima settimana faremo una in due Magari riusciamo a beccare qualcosa e adesso come al solito ci sfidiamo con la nostra sfida sabato contro domenica E aspettiamo come sempre i vostri commenti Parto io questa volta, stranamente l'ultima settimana abbiamo notato un dialogo forse più pacifico Stati iniziando a comprendere il nostro modo di ragionare Tra l'altro tante proposte rispetto alle ultime settimane Ricordiamo, noi giochiamo per vincere ma quote alte, poi vi consigliamo di seguire comunque sempre Palmieri Che invece vi dà i consigli più giornalieri, anche un po' più... E quello serio dei tre diciamo Esatto, anche perché vedendo le nostre facce Vabbè, parto io con il sabato Parto con il sabato, tanta Premier League, 4 partite di Premier League Una sola partita di Serie A ma chiaramente la più importante E so già che avremo da discutere Parto però appunto col campionato inglese Partendo proprio da Leicester al City Il Leicester che incredibilmente è riuscito a vincere 3-1 contro il Liverpool Non se lo aspettava nessuno, in realtà forse qualcuno sì Visto che i giocatori sembrano essere tornati quelli di una volta Tant'è che adesso la conferma, la riconferma di Shakespeare Omonimo del più noto chiaramente William sulla panchina del Leicester È probabile addirittura scapito di Persone e degli altri candidati Quindi io continuo a dare fiducia al Leicester Gioca in casa contro l'Al City di Ranocchia Dato a 1-82, vi consiglio di giocare 1 Per la rinascita della squadra che è campione inglese in carica Dopodiché passo a Swansea-Barley Una sfida a salvezza più per lo Swansea che per il Barley Lo Swansea che ha perso contro il Chelsea Anche se in realtà era riuscito a rimettere la partita in equilibrio Grazie a Llorente Poi un errore di Fabianschi ha complicato le cose Io credo che i gallesi debbano rifarsi assolutamente in casa Nella sfida contro il Barley Che è un po' più tranquillo Visto che ha conuto buoni risultati durante la stagione Quindi vi consiglio di giocare l'1 Dato a 2, una quota che mi sembra notevole per questa sfida Un'altra sfida a salvezza Stoke-Miedelsberg In questo caso forse avrebbe più bisogno di punti Il Midelsberg dello Stoke Però rimango casalingo Quindi vi consiglio di giocare l'1 La vittoria della squadra di Peter Krauch Di Arnautovic, di Bojan Di tanti giocatori appunto Bojan se n'è andato No no c'è Però può andare via a fine stagione Data 1,95 Quindi tre partite 3-1 E non c'è tre senza quattro Visto che mi gioco anche il big match di Premier League Liverpool-Arsenal Con la vittoria dei Reds In questo caso che Proprio per il ragionamento che facevo prima Reducita una brutta sconfitta contro l'Est Devono subito rifarsi E quale preda migliore Sono l'Arsenal di Wenger Tra le muramiche Anche in questo caso quota invitante 2, data 2 Mi gioco l'1 Chiudo con una partita di Liga Il giro poi tra i campionati esteri Via Real e Spagnolo Un Via Real che Ha forse ottenuto meno di quanto avrebbe meritato Nelle due sfide Una di Europa League con la Roma Meritava forse un passivo un po' più alto Anche se forse Quasi sicuramente non si sarebbe qualificata Visto la sconfitta per 4-0 All'andata in Europa League E anche con Real Madrid Vinceva 2-0 Poi c'è stato il ribaltone Do fiducia sotto Marini Gialli Che hanno bisogno di una scossa Nonostante l'infortunio del portiere Che appunto ha la quarta rottura Del legamento crociato della sua carriera Ringraziamo il nostro Federico Alberizio Che ha fatto il pezzo Mi gioco l'1 Quindi Via Real e Spagnolo La vittoria appunto Dei Sottomarina Gialli Anche se l'Espagnolo Non è mai un cliente facile Chiudo con Roma-Napoli E in questo caso Rimango imparziale Faccio come Ponzio Pilato Mi gioco una X Una X perché sono due squadre Molto forti Soprattutto dal punto di vista offensivo Una Roma che ha trovato La vittoria a Milano Quindi potrebbe forse essere Magari un po' deconcentrata Un Napoli che invece ha bisogno Del riscatto Contro una Big E per questo motivo appunto Vi consiglio di giocare il pari Dato a 3,50 Poi ci sentiamo chiaramente Per gli insulti Con 5 euro 480,31 Sperando di rifare 4 No ma speriamo anche Che fai 6 Per una volta Adesso parto io con quella della domenica Io ho pochissimi tagliarci Solo una partita E lo dico subito Un bellissimo Empoli-Genoa Una sfida tra due squadre Che sono in difficoltà L'Empoli che arriva Dalla sconfitta Contro Juventus Disputando comunque Un'onesta partita Mentre da parte c'è il Genoa Che ha pareggiato Nel frattempo c'è Pasquale Guarro Che cerca di destabilizzarci Fuori dalla camera Sfida tra Empoli-Genoa Che finisce secondo me Con un pareggio Due squadre che hanno bisogno di punti Però possono muovere la classifica Con questo punto a testa Tra l'altro un pareggio Che è dato a 3,10 Che diciamo ha incentivato La mia giocata Poi mi gioco Tottenham-Everton Da una parte è Henry Kane Dall'altra Lukaku Capocloniere della Premier League Sfida tra Bomber Per questo gioco Il gol Che ha dato a 1,72 Poi rimango Anzi rimango in Europa Ma mi sposto In Spagna C'è la sfida tra L'Atletico Madrid E Valencia Da una parte L'Atletico che arriva Dalla sconfitta Per 2-1 Contro il Barcellona Con le prime tre Che stanno scappando L'Atletico che deve iniziare A guardarsi alle spalle Per difendere il quarto posto Dall'altra parte C'è il Valencia Che ha ritrovato Zazza Che è andato in gol Due gol nelle ultime tre partite E anche per questo motivo Mi gioco il gol L'Atletico ha un attacco Comunque forte con Griezmann E dall'altra parte Invece c'è Zazza Che vuole continuare A far bene A stupire Anche in chiave azzurra Gol che ha dato a 1,90 Sempre in Spagna La sfida tra Tietic Bilbao E Malaga L'Atletico Bilbao Sappiamo che in casa Comunque È il suo punto Di forza Per questo gioco Un 1 Molto semplice Che ha dato A 1,80 Poi le ultime due partite L'Orient Marsiglia Con la vittoria Della squadra di Rudi García In trasferta Il Marsiglia Che ha ancora ambizioni europee Anche se non è facile Dall'altra parte C'è l'Orient Ultimo In classifica Quindi mi gioco il 2 Che ha dato a 2,25 Quindi Una quota molto alta Infine Hamburgo Erta Berlino L'Hamburgo arriva da una sconfitta Per 8 a 0 Contro il Bayer Monaco L'Allianza Arena L'Erta Berlino Invece arriva da una sconfitta E ha un pareggio Quinta in classifica Ambizioni Champions Ancora Il Borussia Dortmund Dista solamente 3 punti Quindi Deve fare di tutto Per centrare Per centrare La vittoria Che è data tra l'altro A 3 Quindi Anche qua Una quota importante Con 5,678 euro Bocca al lupo Anche a te Visto che Con questa poca Italia Magari Sei meno Sarei meno condizionato Eh sì Meno sotto pressione Magari saranno i tifosi di Empoli E Genoa Però speriamo di no Dai Abbiamo giocato una X Per dare un punto a testa Direi di sì Direi che Sarà più difficile per te Con Roma e Napoli Direi che Come sempre Gli insulti me li prendo io Va bene Tanto sei tu che difendi anche me Qualora dovessero insultarmi Tutti per uno Uno per tutti Detto questo In bocca al lupo a te Ale In bocca al lupo a Chi ci guarda Chi ci legge Chi ci osserva E come al solito Commentate per Farci sapere quelle che sono Le vostre idee Sempre di rispondervi Ciao a tutti